Si conclude oggi a Ceresole il progetto Let's Fit for Healthy Life, un progetto europeo con a capofila la Regione Piemonte che ha coinvolto in questo anno e mezzo di attività purtroppo bloccata per un lungo periodo dalle problematiche legate alla pandemia. Queste diverse nazioni europee che sono state unite da un obiettivo unico, comune, che è quello di promuovere l'esercizio fisico tra le persone in queste aree dove anche l'ambiente, la natura può essere un valore aggiunto, un valore che crea entusiasmo. Oltre diverse migliaia di persone coinvolte nel progetto europeo e dalle previsioni di questa giornata a Ceresole saranno 300 persone che prenderanno parte all'ultimo evento, camminata attorno al lago, questo magnifico percorso di Ceresole Reale e a conclusione del progetto che ha coinvolto tutta la Valle Orco di Let's Fit for Healthy Life.